Stefano Laverde va riportato alla guida del gruppo, dice Francesco Ottodisco, uomo di Lucio Fierro in Consiglio Comunale, ma è una voce isolata tra i banchi dei consiglieri eletti nel Partito Democratico. Ormai i fedelissimi sono davvero pochi. Non è possibile immaginare che il gruppo del Partito Democratico, il Partito Democratico della città, rispetto alle questioni che l'amministrazione ha davanti a sé e che il gruppo stesso ha davanti a sé, rimanga immobile. Il capogruppo con questo gesto ha inteso stigmatizzare questa situazione e spero che si determinano di nuovo le condizioni affinché Stefano Laverde possa ritornare a guidare il gruppo del Partito Democratico. Naturalmente, perché questo possa accadere, è necessario che rispetto alle questioni politiche ed amministrative che ci troveremo ad affrontare nel prossimo Consiglio Comunale, il gruppo del Partito Democratico possa con chiarezza affrontare questi nodi e finalmente scioglierli. Ma tra strappi, veleni e accuse, il gruppo si è ridotto a Brandelli. Il Partito, anche se con ritardo, cerca di recuperare, la segretaria Lengua spera in un chiarimento definitivo per il fine settimana. Intanto, nel centro-sinistra, esce allo scoperto la segreteria provinciale del PSI, che denuncia la situazione di stallo e di confusione anche per l'assenza di qualsiasi iniziativa da parte del Partito Democratico, i socialisti in vista delle amministrative chiedono con urgenza un chiarimento politico e annunciano di voler mettere in campo proposte che non escludano il confronto con le forze di centro, compreso l'Udc di De Mita. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS